Oggi facciamo la tier list della stagione 14 delle leggende della community, quindi andiamo leggenda per leggenda, vi metto i sondaggi in chat e votate. Alla fine ci sarà la mia tier list, che sta qua dietro, guardate qua, nascosta dietro il culo di roba, fantastica immagine. E per metterci un po' di pepe, se il risultato esce esattamente uguale, cioè ogni singolo rank uguale, gift un heirloom a uno casuale. E' impossibile che esca uguale, cioè è impossibile, è impossibile. Ho messo miracinesse. Se vi va trovate il link per fare la vostra tier list qui sotto, la condividete su Instagram con una storia, mi taggate e vi riposto. Oggi vi beccate la tier list delle leggende della stagione 14 fatta dalla mia community, dalla mia chat di Twitch, oltre a quella fatta da me, visto che quella fatta dalla community fa schifo. Si scherza? Non tanto. Raga, commentate il video, mi supportate, perché YouTube lo spamma di più e poi potete anche finire nel prossimo, come questi fortunelli. Non vi tolgo altro tempo perché è un video mastodontico, quindi un bel mi piace, iscrivetevi al canale che dobbiamo volare verso i 100.000 e se volete partecipare alle prossime tier list, il canale Twitch è sempre quello, mi trovate tutte le sere. Bella. Posso mettere 5 opzioni, però di rank ne abbiamo 6, quindi sarebbe S, A, B, C, D, E. Allora, qua ci sono due possibilità. Possibilità numero 1, tolgo un rank e si fa dalla S alla D. Se no si potrebbe fare, per ogni leggenda si fa tipo blowdown, si fa S, A, B, C, D barra E, e poi si va nello specifico, si decide se metterlo in D o in E. Se tu metti dalla S alla D, poi succedono cose del tipo sei obbligato a mettere Fuse insieme a Pathfinder. Vabbè, che magari ci potrebbe anche stare, nel senso Pathfinder fa schifo. Scherzo. Cosa ho detto su Path? Ho detto che è la leggenda più forte del gioco, spero la mettiate in S. Allora, secondo la mia idea, i rank dovevano rappresentare questo. Secondo me la E dovrebbe essere le leggende peggiori, che quindi necessiterebbero un buff. La D sarebbero le leggende che potrebbero aver bisogno di un buff, ma in caso stanno bene anche così. Dalla C in su sono le leggende giocabili. No, altra cosa che dovevo dire, ah sì, cioè, votate secondo i vostri gusti, ma anche un po' oggettivamente. Cioè, se tipo vi fa cagare da giocare Crypto, però lo reputate una leggenda forte, cioè, non gli date un rank osceno, ecco. Posso partire col primo sondaggio? Secondo me Bloody finirà in grado, cioè, io spero da S a B. C'è una persona che ha votato Bloodound in E, io voglio sapere chi è e lo bagniamo. C'è un singolo voto per Bloodound in D barra E su tipo 150 voti per il momento. Let's go, Bloodound, grado A. E vi posso spoilerare che vabbè, anche io l'ho messo in grado A, palese. Ma hanno votato praticamente tutti A, cioè, 97 voti su tipo 140-150 totali. Ma io l'ultima tier list stagione scorsa l'ho fatta da schifo proprio, cioè l'ho riguardata il vomito. Cioè, ho messo Siri in grado E. Cioè, io mi ero ubriacato la notte prima. Cioè, questo è il sondaggio più inutile, votare Gibraltar è inutile, secondo me. Vabbè, Gibraltar, grado S. Alla fine, però, cioè, Gibraltar è stato votato grado S con meno voti rispetto a quelli che aveva preso Bloody in grado A. Lifeline, fate una media, cioè, si valutano tutte le modalità di gioco, una media tra Battle Royale, Rank e Dariene. Vince B, 71 voti su facciamo sempre 150 più o meno. È vero! Lifeline in arena non c'ha più lo zaino oro, lo puoi prendere il knockdown shield d'oro, no? O sì, dallo shop? Anche, no. Eh, raga, il cazzo è buono in arena adesso, allora. Fica, allora... Ah, hanno cambiato, adesso si può prendere, ok. È sensato, perché sennò sarebbe stato un nerf troppo grosso. Comunque, Lifeline in grado B con 70 voti circa su 150. Pathfinder! Vai, Ribbo, sì, l'unico voto grado S, vai. Per com'è la tier list, se Path è il vostro preferito e lo reputate il più forte, potete metterlo in esso, cioè, l'elemento soggettività possiamo tenerlo. Finora è la leggenda che più gente ha votato in grado E. Path in B, 70 voti su 150, sempre più o meno. Cioè, alla fine, poi, vi dovete ritrovare con gli altri. Cioè, con tutte le altre leggende di movement e robe varie. Di Vrate, sono curioso, secondo me verrà blastata. È una leggenda particolare, perché è tipo l'unica leggenda che viene blastata soprattutto dai main Vrate. Cioè, tutte le altre leggende, magari, sono supportate dai loro main. Cioè, i main Octane dicono Octane è fortissimo. Invece, main Vrate, tutti la reputano forte e quelli che la blastano sono i main Vrate. Vedi, Vrate è da main, vedi? Grazie, Don Foscolo. Grazie per la sub. Punto esclamativo Telegram, ti arriva il link in privato. Siete la mia famiglia, vi adoro. Detto ciò, Vrate, grado A. Io non me lo sarei mai aspettato. Cioè, io mi sarei aspettato un grado C. Allora, io mi sarei aspettato un B, ma non mi sarebbe sembrato strano un grado C dalla community. Però è figo vedere come esce fuori. Bangalore. Cioè, secondo me Vrate è tipo una delle leggende più overcriticate. Cioè, secondo me non fa schifo. Però, secondo me, la potenzieranno prima o poi. Secondo me schifo non fa. Due hanno messo Bangalore in S. Ci sono due main Bangalore. Oh, finalmente figa, con Bangalore si va a riempire qualcosa in basso. Bangalore, grado C, però è stato combattuto. Cioè, tra grado B e grado C. Io mi sarei aspettato tra grado C e grado D barra E. Allora, Caustic, Caustic, Caustic. Io, Caustic, spero di non rimanere deluso. Ma che così tanti voti in B per Caustic? Onesto. Mi aspettavo un po' più di voti in S. No, Caustic finisce al pari di Wraith. Cioè, Caustic in A con 74 voti al pari di Wraith. Secondo me Caustic, non ironicamente, nerf più sopravvalutato nella storia di Apex. Perché molta gente lo blasta dopo il fatto delle trappole che si possono rompere. Ma secondo me a livello di gameplay cambia zero. Mirage! Mirage! Io qua lo posso anche già piazzare perché tanto già so la community dove lo metterà. Avanti, mettetemi Mirage in D barra E, forza. Io quando lo uso mi diverto un botto. No, 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 no. Ora, no, veramente. Cioè, chi sta votando grado S per il meme perché ho detto che l'ho messo in S per fare... Non l'ho messo in S. Cioè, ve lo giuro, non l'ho messo in S. Ve lo giuro. Non mettete S per il meme, non l'ho messo in S. Votate bene, votate oggettivamente. Se lo fate finire in S vi faccio rifare il sondaggio. Per quanto io lo metterei effettivamente in S, ma ho paura di farlo in una tier list su YouTube perché verrei blastato. In molte situazioni leggenda più forte del gioco. Ok, no, no, no. Questa cosa mi scalda al cuore. Il fatto che la community non lo metta in E mi scalda al cuore. Cioè, è tipo una delle mie leggende preferite. Io con Mirage ho fatto la partita da 25 kill. Cioè, secondo me Octane finirà in alto. Io sono triste del fatto che la community reputi Octane così forte. E comunque lo metta così in alto perché secondo me avrebbe bisogno di qualcosa. Però, infatti, grado a 52% dei voti. Però per scappare, minchè stracca. No, ma per scappare ci sta però. Il problema di Octane è che per fare con lo stimolante di Octane la distanza che una Vintage fa con una tattica, devi utilizzare lo stimolante 4 volte e pagare 80% degli HP. Cioè, e vai peggio. Ci metti più tempo e vai solo in orizzontale. Eh, Octane è stradivertente da usare ma è che è no brain. È no brain Octane. Cioè, non devi fare nulla. Cioè, è una leggenda stupidissima. Con l'L1 corri più veloce. L'ultimate è una jump pad. Cioè, non è no brain. Cioè, non voglio offendere chi usa Octane. Cioè, ho 50.000 kill con lui. È che è divertente. È divertente ed è facile. Sì, secondo me Watson verrà blastata. Cioè, io Watson non saprei dove metterla. L'unica certezza che ho è che va sotto Caustic. Poi per il resto... Cioè, secondo me si rischia che nessuna leggenda finisca in E. Secondo me una sì. Una sì può essere, sì. Quella là, proprio quella. Esatto. Proprio... Forse addirittura due. Maggie Fuse, intendete? No? No. Vabbè, via Watson. Let's go. Grado D. Per come ho detto che intendo i gradi. Il grado D è quello delle leggende che potrebbero essere potenziate. Ma magari vanno bene anche così. Cioè, secondo me non è male. Crypto farà male. Crypto, secondo me, riceverà tanti voti in S. Ma non abbastanza da reggere il blast che gli arriverà contro. Ma allora, sinceramente, cioè, dopo quanto è stata blastata Watson, mi sarei aspettato molto di peggio per Crypto. Cioè, io non mi sarei mai aspettato... Non mi sarei mai aspettato Crypto in grado B dalla community. Me lo sarei aspettato in grado D. O addirittura E. Cioè, assurdo, è finito Crypto in grado B. Cioè, è onesto, è buono. Però allora c'è un problema, perché se così tanta gente vota Crypto in B, però poi nessuno lo usa, perché c'è tipo uno dei crate più bassi. È noioso da usare, ma infatti Crypto anch'io lo reputo forte, ma mi rompo, cioè, non lo riesco a usare. È la tipica leggenda che mi piace avere come teammate, per dire. Revenant, che doveva essere buffato questa stagione e non lo è stato. Eh, ma Revenant, tipo, secondo me, stra difficile da valutare, perché funziona bene in certe comp. Tipo, in stagione 8 era Revenant più Octane, non era forte Revenant. Era forte Revenant più Octane. Cioè, non erano forti singolarmente né Revenant né Octane, erano bestiali insieme. Revenant, quindi, grado C, 46% dei voti. Io me lo sarei aspettato più in basso. Lobona, mi raccomando, si votano le abilità, non il design e non il culo, mi raccomando. Non è... No, è appunto, no, per favore, se la mettete... Vabbè, no, ma che in verità, l'Oba in S ci puoi controbattere. Cioè, oddio. Probabilmente non sarebbe da S, però non è neanche così... Se questo voto va a finire così, questa tier list perde completamente di senso, però è una cosa bella. Cioè, apprezzo. Va bene, va bene, va bene, va bene. E quindi, a gran voce, l'Oba finisce in grado S con il 42% dei voti, S di sesso, per due motivi. Ok. Il bello è che la seconda opzione più votata dopo la S era la B, che è il voto che si dovrebbe tenere in considerazione, in teoria, però. L'Oba al pari di Gibraltar. L'Oba sopra Caustic. Nicola Funga dice al fungo, sei un porcino. Oh, Rampart però sta avendo un po' di voti grado S. Rampart era grado S nella modalità tempo limitato, armati e pericolosi, vabbè, ma garantito. Cioè, potevi usare Sheila contro la gente con gli shotgun. Cioè, ci stava la gente che ti missava i colpi di P-Skipper, tu andavi là con 300 colpi consecutivi di Sheila. Immaginati uno che entra ora, tipo, e vede... Vede l'Oba in S, vabbè. Grado B, 91% dei voti. Secondo me è tanta roba, dopo il buff, ci sta. Horizon, la leggenda di Stekic. La leggenda di Stekic, nonché la leggenda più piccata nelle ranked Master Predator della stagione 13. Horizon che finisce in grado A. Io me la sarei aspettata su tutta la vita. S di Stekic. S di Space Milf. Horizon sotto l'Oba, Horizon al pari di Octane. Fuse! Raga, qualcuno in grado A ci deve finire. Se no, è brutta da vedere la tier list così. Non dico che debba essere Fuse, è un caso che il prossimo sia Fuse. Però, bella Brad, perché l'Oba in grado S? Perché la community si è espressa, ha deciso di mettere l'Oba in grado S per le tette. Purtroppo le tette hanno vinto sul buon senso un'altra volta. Sì, sì, in verità questa è la tier list della scopabilità. Non è ironico, deve essere serio. Io ci devo anche ricaricare su YouTube, farci il video, vabbè. Poi, se blastano su YouTube, venite blastati voi, non l'ho fatta io. Fuse va ufficialmente in grado E, da solo. Va bene, almeno è presentabile proprio a livello grafico. Almeno si può vedere, perché con un grado vuoto era veramente brutta. Ma Horizon è stata messa in A, secondo me, perché la gente sta sul cazzo Stegac. Cioè, secondo me, se non ci fosse stato Stegac, sarebbe stata messa in grado S. Valkyrie tenendo conto del nerf che ha ricevuto con la stagione 14. Varukiria! Per favore, votate S e A, non potete far finire Valkyrie in grado B, dai. Cioè, no, ho capito il nerf, ma dai. Non me lo aspettavo. Oddio. Allora, Valkyrie che finisce in grado B, secondo me, fa la fine di Seer. Cioè, leggenda che era fortissima, è stata nerfata non così tanto, la community la sottovaluta, tra una stagione torna. Cioè, probabilmente adesso, dopo il nerf, il pick rate di Valkyrie calerà anche, ma secondo me è ingiustamente, perché è ancora bella forte. Io spero che la mia tier list possa deludere di meno. Si vota Seer. Allora, Sirio mi aspettavo un Blast, e invece sono felice che abbia 0, praticamente 0 voti in B, C e D. Cioè, io mi sarei aspettato di meno per Sir, non nel senso che l'avrei messo più in basso io, perché non l'ho messo più in basso, ma nel senso che mi sarei aspettato un voto più basso dalla community. Ma che il secondo grado più votato sia la S e che l'A abbia vinto di poco sulla S è buono, alla fine. E dove lo metto io lo faccio vedere dopo, quando abbiamo finito faccio vedere la mia tier list che ho fatto prima. Ash Ketchum. Ma quindi, Ribbo, cosa ne pensi alla fine di Pathfinder che hai finito in grado B? Ci sta. Io te l'avrei Blastato di più. Madonna, dei piedi veramente brutti Ash. Vabbè, onesto, cioè, Ash in B me l'aspettavo. Cioè, non mi aspettavo né di più né di meno. E ora, Mad Maggie farà compagnia a Fuse o si piazzerà più in alto, contando l'ultimo buff? Io Mad Maggie, sincero, cioè, l'ho giocata troppo poco per valutarla per bene. A me ha divertito un botto sempre. Oddio, madonna, Mad Maggie comunque vince il grado C di 7 voti sopra il grado D barra E. Però ha comunque ricevuto un numero onesto di voti sia in grado A che in grado B, più 11 voti per il grado S. Non me l'aspettavo. Ultime due Newcastle, contando il buff che ha ricevuto. Io per Newcastle mi aspetto tanta roba anche perché in lobby c'è praticamente ogni team con Newcastle. In questo momento è più giocato di Vintage. Però, cioè, secondo me è stato buffato un sacco, cioè si sente tantissimo. Quando resti adesso vai un botto più veloce, si sente un sacco. E la tattica ha quasi il doppio della vita di prima. Va buono Newcastle, grado A? Sono felice. Cioè, anche lui mi aspettavo venisse blastato di più, invece... Ultima leggenda, in tutti i sensi. Anche lei è stra difficile da valutare. Cioè, io mi ricordo un botto di leggende che appena uscita la stagione le ho sparate a rank altissimi e poi sono calate un botto. Vintage ha ufficialmente ricevuto tre voti tra grado D e grado C. Ciò vuol dire che, tipo, la totalità ha votato tra grado S e grado A. Con grado S che vince con 89 voti su 150. Secondo me è un voto inflazionato, cioè perché appena è uscita. Ma secondo me non la nerferà. Cioè, l'unica cosa che potresti nerfare è la tattica, aumentare il cooldown, secondo me. Per il resto... Quindi questo è il risultato finale. Tier list scelta dalla community tramite voti nei sondaggi della chat. Loba grado S, sopra Caustic, e sopra Sir, e sopra Horizon. Per il resto... Adesso, madonna zanzara di merda. Qui sotto al culo di Loba c'è la mia tier list. Adesso la rivelo pian piano e vi avverto per dire, io in grado E ne ho messi tre, mi sembra. Mentre in quella della community ci sta solo Fuse. Quindi già ne ho blastati due che voi non avete blastato. Cioè, va contestualizzato, io ho detto che intendo il grado E come leggenda che va abbaffata. L'ho detto subito. In grado E ho messo Revenant, Bangalore e Fuse. Revenant, Bangalore e Fuse. Il grado E è quello più scarso. E no! E no! Ho detto che il grado E sono quelli che andrebbero potenziati. Paraculata? Paraculata. Ah, o qualsiasi cosa avessi messo sarei stato blastato in qualche modo. Io sono sicuro che Revenant e ne piaccia a qualcuno. Non si può fare una tier list che vada bene a tutti. Detto ciò, in grado D ho messo Lifeline, Watson, Crypto e MadMag. Quando la community ha messo Lifeline in B, Watson in D, quindi uguale, Crypto in B e MadMag in C. Quindi del grado D ce n'è uno uguale. Del grado E c'era uguale solo Fuse invece. Perché Bangalore l'avete messa in C e Revenant in C. Quindi per ora siamo a due posizioni uguali. Ma aspetta! Ma non c'è Mirage in D! È vero perché ho detto che D sono quelli che potrebbero ricevere un buff ma vanno bene già così. E secondo me Mirage non ha bisogno di un buff. Ma dove cazzo l'ho messo Mirage? Figa, ma l'ho messo in S veramente? No, non l'ho messo in S. Però non mi ricordo dove. Cioè è preoccupante, siamo al grado D, ancora non è uscito Mirage. Ehm... Ho fatto 25 kill con Mirage. È una tier list soggettiva, io con Mirage ho fatto 25 kill, la mia partita migliore. Grado C... Un botto di roba! Ci ho messo Pathfinder, Ash, Octane, Wraith, Mirage e Rampart. Quando voi avete messo Pathfinder in B, Ash in B, Octane in B, Wraith in A, Mirage in D e Rampart in B. Quindi il mio grado C è ufficialmente diverso completamente. Cioè non c'è neanche una leggenda che voi avete messo in C. Perfetto. Direi che l'Hairlum non lo regalo. Allora, secondo me, cioè confrontando con quella della community, oggettivamente Wraith sta meglio in C che in A, secondo me. Cioè sono felice di come l'ho messa io. Io sono felice di come l'ho messa. Allora, grado B ho messo... Vintage e Loba. Mi dispiace, voi avete messo Loba in S e Vintage in S tra l'altro. Il mio grado B è praticamente il vostro grado S. Ma diciamo, cioè per dire le cose come stanno, Loba sarebbe finita in B anche nella tier list vostra se non fosse stato per il fattore tette. Quindi è onesto. Vintage l'ho messa in B perché avevo paura di esagerare, ma soprattutto perché... L'ho messa sopra a tutte le altre leggende simili per dire. Cioè io Vintage l'ho messa in B ma l'ho messa sopra Pathfinder, l'ho messa sopra a Dash, l'ho messa sopra a Doctane. In grado A ho messo... Valkyrie che voi avete blastato in grado B. Blowdown che avete messo in grado A e va bene. E Newcastle che avete messo in grado A. E Newcastle sono andato molto sulla fiducia, cioè mi sembra molto forte, però... Cioè appena è iniziata la stagione è difficile. Quindi più o meno il grado A è anche uguale, cioè in verità voi avete messo il disastro di roba in grado A. Valk probabilmente ci starebbe pure comunque in S, sì. Io sono stato molto più cattivo, cioè... La mia tier list potrebbe sembrare un blast totale e completamente stupida, però va anche detto che io ho messo un botto di roba in C e in D e poca roba in A, B e S. Cioè per dire qua Pathfinder l'avete messo in B ma l'avete messo sotto a tipo 10 leggende. Io Path l'ho messo in C perché io ho messo il grado A e il grado S molto meno pieno. Cioè io il grado A e il grado S le ho riempiti molto di meno, quindi una leggenda in grado C nella mia tier list non è come una leggenda in grado C in questa tier list. Perché ha molta meno roba sopra nella mia. Cioè sembra che abbia blastato un botto di roba non blastabile, però minchia, cioè... Vrate avrei potuto alzarla in B guardandola ora. Vrate in C di connessione alla lobby. O in A di abbandona partita. Bottiglia stappata, bottiglia stappata, bottiglia stappata. Cioè quelli che mancano, quindi ci ho messo in grado S quattro leggende. Horizon, Gibbo, Seer e Caustic. Voi avete messo Horizon in A, Gibbo in S che è l'unico uguale, Seer in A, e Caustic in A. Quindi alla fine ho messo in S Gibbo più tre leggende che la community ha messo in A. Questo è il risultato finale. Sì, Vrate non può stare al pari di Mirage, dai, è onesto. Chi devo comprare tra loba, Seer, Mad Mag? Eh, la community ha messo loba... loba in S, quindi lei. Questa è la mia aggiustata. Valkyrie in S e Vrate in B. Onesto. Onesto. Questa è quella della community, questa è la mia. Per far vedere un attimo le differenze velocemente. L'ho fatta in almeno... Cioè ci ho dedicato almeno cinque minuti per rifletterci. Secondo me è un risultato sfavillante. Ma poi dai, è impossibile farne una che soddisfi tutti e una giusta. Cioè ci stanno argomentazioni per mettere qualsiasi leggenda in S e qualsiasi leggenda in E. Io per dire Revenant lo so che in E è bassissimo, ma perché secondo me ha bisogno di essere baffato. Poi se lo prendi singolarmente è ovvio che tipo in un team per le Ranked picchi Revenant tutta la vita sopra Mirage. Quello è ok. Ma secondo me Mirage è da C perché non ha bisogno di buff. Cioè sta bene così come sta. E poi Mirage è la leggenda più forte del gioco. Ok, con le parole scritte, leggende che vanno baffate, leggende che potrebbero venire baffate ma vanno bene pure così e poi ci stanno i gradi da C a S che secondo me sono quelle giocabili rankate. Dai, così è onesta. Così è anche straparaculo. Gli ultimi due sono dei rank separati, quindi Revenant non è più in basso di Mirage. Mirage è nel rank più basso. Questi due sono rank a parte. Però a sto punto si potrebbe anche spostare Mad Maggy e metterla in C. Voi avete messo Mad Maggy in C? Va bene, va bene, allora va bene, vi copio. Quindi questa è quella finale vera, 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 vera. Dopo averla cambiata otto volte così è quella finale. Paraculata e tutto. Raga, spero che il video vi sia piaciuto. Se siete arrivati fino a qua, un bel mi piace e se volete partecipare alle prossime tier list trovate il link di Twitch ovunque. Bella. Avevo pensato che il video delle banane potrei fare un twist e fare ogni sconfitta una banana invece di ogni vittoria. Che così è divertente perché mi devo impegnare perché se perdo si mangia la banana. Cioè mi sto giocando la vita praticamente perché una volta che arrivo a 6-7 banane figa se ne mangio tante altre muoio. Quindi c'è la vita in palio, è divertente. Quindi c'è la vita in palio, è divertente. Quindi c'è la vita in palio, è divertente. Quindi c'è la vita in palio, è divertente.